Se il buongiorno si vede dal mattino sarà una lunga stagione, ve l'avevo detto nel video precedente, vi avevo detto che comunque sarebbe stata una partita complicata da non affrontare in ciabatte e pantofole e in effetti così poi è stato. Anche perché Sanernitana e Roma, come detto nel video precedente, hanno due obiettivi diversi, una vuole salvarsi, l'altra vuole competere per quanto riguarda la qualificazione all'Europa e avrà altre competizioni, quindi era anche normale che si arrivasse in questa partita di inizio campionato con una condizione fisica dovuta alla preparazione diversa e con un rendimento poi diverso da quello che magari si potesse aspettare. Vero che è la Serie A Tritana, vero che il livello tecnico delle due squadre è diverso, però in effetti è stata una partita difficile. Partita difficile, complicata, che ha mantenuto un po' il canovaccio di alcune partite che si sono viste l'anno scorso con una Roma che ci prova, che domina, ma che vuoi un po' la sfiga, vuoi un po' l'imprecisione sotto porte in alcuni casi, porta poi a questi risultati qua, a queste partite qua. Allora, cominciamo dalle note positive che sono tante, partiamo dal Gallo, Gallo Belotti, vero protagonista della giornata della partita, con una doppietta che, grazie al Signore, fa molto bene a noi, ma soprattutto ovviamente a lui, perché l'anno scorso è stata una stagione un po' complicata per tutti quanti, soprattutto poi per lui, perché era arrivato tra l'entusiasmo generale, tante buone prestazioni a livello di cattiveria, di sacrificio per la squadra, ma sei un attaccante e a fine stagione sul tabellino hai zero gol in campionato, si è beccato un po' di critiche, però quest'anno ha risposto presente e l'ho detto pure lui, che durante la preparazione è sempre stato al 100%, si sente ora al 100%, cosa che l'anno scorso non è mai stato, anche perché poi l'anno scorso alcuni infortuni vari, dove però è riuscito a giocarci sopra e nota l'anno scorso non aveva fatto tutta la preparazione, cosa importante per trovare un po' il feeling con i compagni e con la squadra. Quindi, doppietta del gallo, in un momento in cui ancora si cerca questo attaccante dovrebbe arrivare il famoso Duvan Zapata, ma come Sant'Ommaso, finché non lo vedo, vince credo, e quindi si sta muovendo qualcosa, arriva l'attaccante, forse, speriamo, Belotti si sblocca e segna, quindi Abram penso e credo e spero che possa stare tranquillo a recuperare per tornare anche lui al 100%, arriverà, dovrebbe arrivare a gennaio Marcos Leonardo dal Santos, ma tornando alla partita della Salernitana, oltre al Gallo Belotti, benissimo, anche Awar, bene, molto bene, Cristian Sen, molto più pronto rispetto a Carsdop, cambio che non avrei fatto, onestamente e sinceramente, avrei lasciato Cristian Sen fino alla fine, per quanto Carsdop non mi sia mai dispiaciuto come giocatore, certo non è un fenomeno, però non è nemmeno l'ultimo arrivato, specialmente poi per la grinta che in alcuni casi ci mette, però in questo momento qua sembra molto più pronto Cristian Sen rispetto a Carsdop. E molto bene invece Awar, come detto, difesa che non mi è dispiaciuta, poi un attimo parliamo anche dei gol, molto bene Cristante, diciamo che sia Sanchez che Paredes, io sinceramente non me li sarei aspettati in campo da subito, cioè alla prima giornata, anche in questa condizione qua, anche in queste partite qua non me li sarei aspettati, sinceramente peccato che siano arrivati così tardi, mancava Di Bala, mancava Pellegrini, credo che poi per necessità ovviamente è stato messo Bove lì a centrocampo, però ecco magari se fossero arrivati Paredes e Sanchez anche due o tre giorni prima magari uno sarebbe partito titolare al posto di Bove oppure se fosse stato disponibile Pellegrini magari al posto di Bove avremmo avuto un altro centrocampo, ma comunque Roma che sinceramente non mi è dispiaciuta, cioè considerando che prima di campionato è condizione che è quella che è, quindi ancora i giocatori magari sulle gambe, gambe pesanti, il caldo, a me sinceramente non mi è dispiaciuto. Roma che ha giocato bene, che ha attaccato, ha tenuto il campo, ha aggredito l'avversario, quindi sinceramente non mi è dispiaciuta, anzi sono molto molto contento della condizione generale dei giocatori, sarà un campionato lungo, questo lo sappiamo, la squadra c'è. Recuperando questi due o tre tasselli in giro che erano indisponibili in questa giornata, mettendo a pieno regime sia Paredes che Sanchez nell'attesa dell'attaccante, perché no? Primo gol di Belotti annullato per un fuorigioco millimetrico di praticamente tanto così, fuorigioco che c'è, perché c'è la tecnologia però tanto così. Questo dimostra ancora una volta la nostra proverbiale fortuna, così come il palo colpito da El Sharawi che dimostra ancora la nostra fortuna in queste situazioni qua e a dimostrazione ancora della nostra fortuna la Salernitana fa due tiri in porta e fa due gol. Per quanto il secondo gol di Candreva, il cui gol era quotato penso 0-25 in qualsiasi centro scommesse contro la Roma, il secondo gol di Candreva è bellissimo, è un arcobaleno disegnato sul secondo palo che non te lo aspetti e se non te lo aspetti quello è gol, infatti così è stato, ma anche se te lo aspetti nove volte su dieci quella entra, cioè se schiappa la porta, se schiappa l'angolo giusto quella entra. Quindi secondo gol, lì proprio si è inventato il gol della domenica, diciamolo così. Il primo gol, per quanto sì l'errore di Mancini in anticipo sull'avversario, però Mancini è uno che anticipa in quel modo là, per quanto non è che mi piace tanto come sistema, però è uno che come caratteristiche va in anticipo, ma l'errore, purtroppo, l'errore sul gol di Candreva lì è di Smalling. Cioè da uno come Smalling non te lo aspetti un errore del genere, perché lì, lo sanno anche i pulcini, non ti devi girare. Cioè in quella situazione lì, in quel momento lì, con l'avversario che scende, non puoi girarti schiena all'avversario. Ti devi girare sì, ma mantenendo sempre comunque la parte frontale verso la palla, verso l'avversario. posizionato male Smalling con il corpo, non in campo, posizionato male Smalling con il corpo si è dovuto girare spalle a Candreva, come lui si è girato Candreva ha tirato. Quindi errore di Smalling sull'1-1, però è un errore che, come ripeto, che ci può stare, perché comunque siamo ancora in una fase embrionale della stagione, non te lo aspetti da uno come lui, però in questa condizione qua sono errori che purtroppo ci stanno e purtroppo li paghi. Comunque, quindi, sul punto della questione, nonostante il pareggio, che ovviamente rende un po' l'inizio di stagione un pochino amaro, perché chiunque vorrebbe vedere la sua squadra alla prima giornata vincere, partire bene, anche perché tutte le altre sono partite bene, tranne le romane, aspettando il Milan. Sono tutte partite bene, tu che parti con un pareggio, però la stagione è lunga, sono altre 37 partite, più avremo tutte le coppe, quindi porteranno via energie. Insomma, il campionato è lungo. Si sono viste tante cose buone, aspettando, ripeto ancora una volta, aspettando Di Bala-Pellegrini al 100%, aspettando Sanchez e Paredes integrati al 100% all'interno della squadra, aspettando Dica, aspettando l'attaccante e aspettando anche il recupero di Carstop, perché se il Carstop visto ieri è quello che vedremo per tutto l'anno, spero che no, Christian Senna titolare fisso a destra. Comunque, ragazzi, detto ciò, sempre forza Roma, daglie Roma daglie e noi ci vediamo alla prossima partita dove sarà una trasferta un po' complicata storicamente. Ciao!